Ecco le immagini mentali del 7x7. La scena si svolge in piscina su un trampolino a forma di 7. L'uomo ripiegato a forma di 7 sale sul trampolino per una gara di tuffi che viene trasmessa in televisione. Prima dell'inizio, la telecamera fa un primo piano del suo viso e proietta la sua immagine sullo schermo gigante. Puoi vedere il suo naso blu che forma un 4 e la sua maschera e il boccaglio che formano un 9. Puoi leggere il risultato 49 sulla faccia del nostro sub. Ora sai che 7x7 è uguale a 49.